Domani si celebrerà la festa della liberazione. Il 25 aprile è una data simbolica, infatti in quel giorno del 1945 non finì la guerra, ma cominciò la ritirata dei tedeschi e dei soldati fascisti della Repubblica di Salò da Milano e Torino, in seguito allo sfondamento della linea gotica da parte degli alleati e dell'azione della resistenza. Non è quindi un giorno di semplice commemorazione, ma la celebrazione dei valori di libertà e democrazia che sono fondanti della nostra Repubblica. Non è un semplice e importante fatto storico, ma che costituisce memoria educante per tutti i cittadini italiani, per tutto il popolo italiano, perché dalla unione di più forze politiche, ideologiche, da cittadini che provenivano da estrazioni sociali diverse, da un'unione convincimenti ideologici diversi. Vi era un unico convincimento, lottare, lottare contro il nazifascismo. Da quella lotta sono venute fuori le istituzioni repubblicane, democratiche, è venuta fuori la civile convivenza che ci permette di sentirci liberi cittadini e capaci di avere diritto ad esprimere tutti i nostri convincimenti sociali con dignità, tolleranza e spirito democratico. Noi come scuola abbiamo e promuoveremo sempre dei percorsi che non sono intrisi di semplice didattica trasmissiva dei fatti storici, ma tendono a interpellare e a ricostruire per dare valore, nuovo senso eterno presente a fatti che possono riorientare continuamente le scelte consapevoli dei ragazzi. Noi dobbiamo rinvenire nella storia e interrogare la storia non semplicemente con fatti, ma anche con esistenze esemplari, anche se non hanno fatto direttamente parte della resistenza. Mi riferisco ad esempio a un ideale capofila quale può essere Giacomo Matteotti. Il nostro istituto da anni partecipa al concorso nazionale dedicato a quest'uomo che la storia ci trasmette nei libri con poche pagine dedicate al suo martirio, ma che è stato invece un caposaldo della lotta democratica e di una resistenza a qualcosa che lui come sismografo aveva già avvertito l'avvento del fascismo e della dittatura.